Era irreperibile dal 2011 ed è stato tradito dal periodo di vacanza trascorsi in Riviera. La squadra mobile della polizia di Rimini ha arrestato domenica Umberto Falanga, napoletano di 40 anni, pluri pregiudicato, affiliato al clan Contini, uno dei gruppi camorristici più potenti balzato alle croniche per episodi di istorsione, spaccio di sostanze stupefacenti e usura. Lunga è assortita la fedina penale del Falanga, dal 1991 a precedenti per esistenza pubblico ufficiale, omicidio, associazione a delinquere di stampo camorristico, violazione della legge sulle armi, gioca d'azzardo. È stato catturato qui nella provincia di Rimini nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che aveva deciso di trascorrere, unissi alla famiglia che era qui in vacanza per trascorrere la settimana di Ferragosto. Era latitante da circa tre anni, gli era stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli la misura di sicurezza della casa lavoro per aver contravvenuto dal 2006 quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a sua volta dopo aver trascorso il lungo periodo di carcere. Falanga è stato catturato domenica dalla mobile di Rimini che aveva ricevuto una segnalazione dai colleghi di Napoli. Da una settimana la moglie e i suoi genitori in riviera in vacanza in un residence erano tenuti sotto controllo. Il Falanga era in strada al momento della cattura e aveva con sé documenti intestati ad un altro napoletano. Si muoveva con un'auto elettrica noleggiata e al momento dell'arresto non ha opposto resistenza.